ci conosciamo live adoro questa cosa adoro al posto di fare le chiacchiere dietro che uno si dice parla tre ore e poi quando si registra non so si è già scoperto invece mi piace che uno si scopre così io vivo a Brighton che bella l'Inghilterra in realtà però io da DJ ho un amico che vive che è stato anche una delle mie diciamo ispirazioni all'inizio Fateboy Slim no Fateboy Slim sono diventato amico dopo e in realtà lo adoro cioè adoro Fateboy Slim per la sua attività al di là della musica al di là di tutto quello che ha fatto musicalmente che ok probabilmente ogni DJ conosce un po' il percorso di Fateboy Slim però lui lo adoro come persona perché secondo me è capace di non prendersi troppo sul serio perché è quello che secondo me questa è la mia visione poi per l'amore del cielo magari prenderò su come si dice dalle nostre parti quelle di Sandrone però va bene prendersi sul serio ma non troppo cioè quando siamo DJ cioè alla fine capito e lui guarda l'ho incontrato anche a Ibiza appena prima della pandemia che suonava il mambo quindi comunque non suonava in una diciamo in una location gigantesca il mambo caffè questo posto dove vai all'aperitivo vai al tramonto e comunque ha questo modo di fare bello cioè ha questo ha questo approccio non è cioè non voglio dire che non la prenda sul serio prende tutto molto sul serio ho visto anche un suo posto dove diceva quando parlava del figlio diceva mi raccomando se i vostri figli vi dimostrano di avere un po' di attitudine per la musica o di avere interesse per la musica lasciateli fare perché comunque la musica ti può davvero magari cambiare la vita o tipo comunque può diventare da passione può trasformarsi nel tuo lavoro no? però lui ha questo modo ha questo questo modo di di fare appunto non si prende troppo sul serio e a me piace molto a me piace tanto mi fa anche sorridere cioè andare al suo set è divertente anche vedere lui in console ecco poi lui sai che lui qua a Brighton ha un barettino dove serve lui al tavolo quindi vai lì ti prendi il flat white e ti arriva a Fabio Slim e dici scusa ma con la reazione un po' all'inizio perché poi dici è veloce cazzo è fette che è freddo il caffè quindi dopo un po' vai così e poi adesso mi sembra che quest'estate non so quando rifà il concerto sulla spiaggia di Brighton il precedente c'era una roba tipo non so centomila persone cioè era gigantesco aperto siccome aperto la strada sì aperto la strada al Giovavici eh sì al Giovavici esatto no no è vero è un po' ecco bravo se vogliamo bravo un artista italiano che può essere paragonato a Fightboy Slim è di sicuro Lorenzo cioè Lorenzo è come lui cioè fa le cose serie ma si prende diciamo giustamente sul serio cioè lo vedi con la bicicletta che si ferma il paese a riempire la borraccia qualche giorno fa e scherza con la gente è venuto in studio da noi noi sotto allo studio abbiamo un bar e mi ha detto andiamo a farci un caffè e gli ho detto ma sei sicuro cioè sei Lorenzo no no andiamo a farci un caffè è andato dietro a farsi il caffè con le ragazze del bar cioè io vivo noi viviamo in un paese immaginate un paese di siamo 7000 cioè vicino a Reggio Emilia un paese carino molto carino ma cioè un paese di provincia quindi avere Lorenzo al bar cioè capito se voi sì possiamo paragonare diciamo Lorenzo a Fatboy's Day ma anzi di sicuro a me piace molto le persone chiacchierando sono da tanti anni con tante persone che fanno robe pazzesche in tanti campi diversi cioè dall'astrofisica ieri per dire chiacchieravo con un tenore italiano o l'altro giorno con Ponzi l'illustratore emiliano cioè parli con persone che fanno cose incredibili però io apprezzo sempre molto quelli che sono capaci di avere la giusta dimensione perché alla fine dei conti si può essere un fenomeno a giocare a tennis però chi se ne frega cioè non è un motivo sufficiente per trattare male persone per atteggiarti e poi penso che sia veramente molto più difficile essere non prenderti sul serio e far passare solo cioè la tua competenza parla per te capito non hai bisogno di altro io lo chiamo praticare la gentilezza cioè nel senso che non è facile sempre praticare la gentilezza cioè è più facile chiuderti chiuderti a riccio o dire guarda ma sai vabbè io parlo del mio diciamo del mio lavoro può succedere di tutto ti puoi ritrovare a un festival e magari tu hai chiesto un mixer perché conosci quel mixer e ti ritrovi perché magari c'è stato un problema tecnico o un disguido e non c'è quel mixer ti garantisco che è più facile dire ok vado a casa perché non c'è il mio mixer è capitato tantissime volte a tanti miei colleghi poi tantissime volte vado a casa perché non c'è il mio mixer vado a casa perché non c'erano i miei cd non riesco a vedere però in realtà non ti metti mai nei panni di quei ragazzi che hai di fronte che comunque hanno comprato il biglietto e magari alcuni di loro anche con tanti sacrifici per essere a un festival tipo se è un festival non so uno dei festival importanti tu arrivi non c'è il tuo mix tu vai a casa magari è meglio sbagliare un mixaggio comunque fare due chiacchiere col microfono però alla fine in quel modo lì ti sei messo un po' dalla parte anche insomma dei tuoi fan che secondo me è importante io lo chiamo praticare la gentilezza che che non è sempre come dici tu non è sempre facile no no perché spesso anche non mi ricordo forse Ryan Holiday che è un autore americano diceva che non devi non basta aver ragione devi anche essere gentile questo vale anche in una negoziazione una conversazione cioè io posso avere tutte le ragioni del mondo però voglio dire il mio messaggio non passa se ti tratto male se ti faccio sentire come una merda quindi penso anche i collaboratori io mi ricordo ai tempi a Schetti G24 quando avevo iniziato a fare un po' di televisione quando avevo in Italia che c'erano diversi giornalisti che trattavano malissimo gli operatori no? li trattavano come dire fossero quelli delle persone della pulizia e mi ricordo che invece il direttore ai tempi diceva Monti tratta sempre bene gli operatori perché sono quelli che poi determinano come tu vieni in camera no? o se il microfono ce l'hai messo male la gente non ti sente quindi è una parte fondamentale è una squadra di persone che devi rispettare è una squadra poi adesso secondo me sempre di più funzionano i team cioè sempre di più secondo me bisogna comunque lavorare in team poi credo che sia anche cambiato magari sai negli anni 80 quando la tecnologia non era andata così veloce probabilmente contava molto anche l'esperienza alle volte contava molto l'età io penso alle volte parlo magari anche con mio suocero che ha fatto un imprenditore vede l'azienda contava molto l'esperienza allora oggi secondo me conta molto anche l'esperienza dei ragazzi giovani perché comunque ti trovi vera a che fare alle volte con sistemi informatici o con sistemi comunque che tu non conosci mentre i ragazzi ci sono nati con queste cose i ragazzi giovani io per dire alcuni dei ragazzi che lavorano in studio con noi potrebbero tranquillamente anzi forse tutti potrebbero essere i miei figli e li vedo che sono molto più veloci per cui tante volte l'esperienza diciamo accumulata magari serve in una parte del lavoro ma c'è anche una parte del lavoro dove in realtà non serve anzi è come quando vuoi sistemarti lasciata ed è una vita che esce in un modo in realtà fai fatica poi se hai 50 anni a sistemarti lasciata magari un ragazzino che ha iniziato a sciare un modo quello è quello che probabilmente succede quindi funziona sempre di più i team funziona sempre di meno per fortuna siccome i personaggi arroganti e questo è quello che ho sempre cercato di fare poi alle volte magari potrò essere stato anche sai soprattutto all'inizio ti trovi magari in situazioni anche più grandi di quelle in cui ti immaginavi di essere però negli anni questo ho cercato di raffinarlo un po' dammi una consulenza di reinventamento e di longevità professionale una domanda che mi faccio sempre è questa qua da un lato uno magari individua un filone che funziona in qualunque settore magari appunto certe start up che fai nel mio caso magari alcune tipologie di video che uno fa o un certo tipo di musica e quindi sei tentato di continuare a ripetere seguire quel filone e spremerlo fino a che funziona e da un lato sei sicuro sai già che quella cosa funziona dall'altro lato però magari vogli fare altro però A non sai se funziona B magari il tuo pubblico dice no io non voglio che fai salsa e merenghe voglio capito e tu dici però io voglio fare salsa e merenghe adesso mi piace così quindi come fai a continuare a reinventarti tenendo insieme un po' tutti questi allora questo è un problema che io ho sempre avuto ti spiego allora secondo me la grande differenza che o meglio grande non è poi una differenza enorme però la differenza che ci può essere fra un artista inteso come cantautore ad esempio un cantante un artista rock e un dj è che l'artista rock come probabilmente anche lo scrittore invecchia col proprio pubblico cioè un cantautore invecchia con il proprio pubblico diciamo cresce e un dj no perché alla fine io oggi ho 55 anni 50 cioè 54 quindi i miei amici quelli con cui andavo in discoteca a 16 anni quando ho imparato a fare dj non sono più ovviamente alcuni addirittura hanno famiglie molto grandi alcuni addirittura sono nonni cioè non è che vanno in discoteca quindi se io avessi seguito diciamo quello che scrivevano sui sociali fan avrei probabilmente avremmo probabilmente perché poi noi lavoravamo eravamo già un team perché io lavoravo con mio cugino che era il musicista diciamo del nostro duo avremmo dovuto continuare a fare satisfaction continuare ad avere quel suono che ci ha caratterizzato all'inizio degli anni 2000 in realtà però in quel modo lì non prendi più i ragazzi giovani perché comunque almeno per dieci anni quel suono invecchia cioè nel senso inizia ad invecchiare poi la fortuna è che la ruota un po' gira e quindi dopo dieci anni magari rientra rientra dalla finestra diciamo un suono simile e qui arriva il team nuovo di ragazzi giovani che ti aiutano a capire magari quali sono gli elementi io cerco di fare quello cioè magari adesso in questo momento quando sono in studio con i ragazzi cerco di prendere qualche elemento magari dalle cose che mi ricordo io dalla mia esperienza e la metto vicino alla loro e loro invece hanno tutto quello che è una serie di plugin nuovi una serie di suoni che sono arrivati e cerchiamo di fare un mix delle cose quello è quello che cerco di fare io però io avevo già quel problema che ti dicevo cioè nel senso che il mio pubblico non invecchia non invecchia con me è interessante anche questo aspetto che alcuni suoni alcune tendenze poi tornano di moda ad esempio ho visto di recente qua a Brighton un po' di ragazzi che hanno questo look col baffettino anni 80 stile Top Gun c'era uno dei personaggi che c'è il baffetto no? classico look anni 80 con l'occhialetto con Ray-Ban e il baffettino ma caspita questo look mi dice qualcosa e per loro è una roba molto cool nuova diversa invece come dire siamo tornati indietro di io se avessi ancora il mio vecchio armadio di quando ero diciamo diciottenne probabilmente ecco sì magari io vivevo a Reggio Emilia che non era Milano ecco se se io avesse abitato a Milano allora e avesse indossato magari non so l'abbigliamento dei paninari di allora oggi lo ritiri fuori e magari se hai ancora capito il jeans di allora se hai ancora quello si tornano secondo me dipende nella musica nella musica io parlo sempre di musica da club ho visto che più o meno può essere un arco di dieci anni dove per dieci anni noi facciamo magari questo vale anche alle volte per le collaborazioni sai tra dance e artisti diciamo pop noi nella dance per dieci anni magari siamo un po' il loro laboratorio dove ogni tanto prendono suoni ascoltano magari sai anche loro magari vanno nei club e sentono qualcosa e poi più o meno ogni dieci anni c'è un un momento di incontro fra il pop e la musica e secondo me è un po' così anche oggi per dire mi ritrovo a suonare adesso sto preparando il set di domani stavo preparando ieri il set di domani sera che sono a Ibiza siccome è la serata di Calvin Harris quindi non chiudo io la serata ma diciamo apro per lui devo fare un set un po' più tranquillo un po' più house un po' più Ibiza vibe e ti garantisco che molti dischi di quelli che sto ricercando nuovi hanno il suono che sentivo Ibiza quando ci andavo le prime volte come Marco Benassi a sentire i DJ che poi volevo imitare quindi più o meno sono passati vent'anni quindi c'è questo arco di dieci anni dieci anni dieci anni che si ripete secondo me periodicamente sai che ad ircente ho creato con Boy George e ho scoperto che c'era il DJ non lo sapevo sì secondo me fa ancora serate come DJ lui ha fatto il DJ prima poi è uscito ovviamente con i Culture Club e secondo me adesso fa ancora il DJ sì è incredibile come hai delle persone che categorizzi in un certo modo e poi basta non li segue più e per te sono quelli tutta la vita e non hanno nessun'altra attività fanno solo quello tutto il giorno invece è una persona sempre mille sfaccettature tu a parte DJizzare hai qualche particolare hobby passione allora guarda io ho un hobby che poi alla fine è diciamo il 30% forse della mia vita io mi alleno cioè vengo da ragazzino da ragazzino correvo in bici quindi ho fatto fino a 18 anni ho cercato di diventare un prof del ciclismo poi in realtà allora era dura perché ci volevano i punti per la compagnia atleti non era facile perché allora c'era ancora il militare obbligatorio quindi alla fine poi sono dovuto partire comunque poi diciamo che per un ciclista dai 18 anni ai 25 è il momento in cui ti cambia completamente la vita perché i tuoi amici innanzitutto i miei amici andavano in discoteca e io ero molto appassionato di musica da discoteca degli anni 80 quindi io volevo andare in discoteca più diventava molto difficile passavo gli inverni però mi è rimasta sai è una cosa che se hai fatto un po' di agonismo in qualsiasi sport quella cosa lì ti rimane quindi la bici mi è rimasta e mi diverto tantissimo poi ho la fortuna come ti dicevo vivo un po' in collina quindi veramente da casa mia in 5 minuti sono completamente fuori dal traffico sono nei boschi e questa cosa mi rilassa molto quindi vado in bici corro mi alleno sabato scorso ho fatto la mia prima gara di triathlon non mi chiedere come andata la hai finita questa è l'unica domanda la domanda mi piace sì l'ho finita l'ho portata a casa l'ho portata a casa tra l'altro era un circuito che si chiama X Terra dove la bici invece di essere bici da corsa è mountain bike nei boschi io non lo sapevo che fosse così tecnico quindi sono arrivato ed era veramente molto tecnica però l'ho portata a casa scendendo ogni tanto dalla bici però diciamo che questa è la mia passione negli ultimi anni mi sono appassionato molto anche della vita da van e sto girando con un van con la mia compagna io vivo con Alessandra che è la mia compagna da 15 anni e Margherita che è sua figlia in realtà siamo una famiglia allargata stiamo molto bene e adesso io e Alessandra abbiamo questa passione abbiamo questo van Volkswagen con la tenda sopra in Inghilterra ce ne sono tantissimi e andiamo a scoprire anche luoghi dove fare picnic dormiamo magari in libera una notte poi la notte dopo in albergo non faccio vita da campeggio facciamo vita da liberi in van nel senso ho dormito dormito in Francia con i fenicotteri su una spiaggia con i fenicotteri di fianco diciamo che dai cerco di proseguire con la sana consapevolezza di essere fortunato cioè di essere stato fortunato perché alla fine faccio quello che mi piace non che non mi impegni non che non ci metti però è diverso comunque poter fare quello soprattutto a 50 anni fare quello che ti piace secondo me riuscire a trasformare la tua passione nel tuo lavoro come funziona? Benny diciamo il circuito oggi per chi fa il tuo mestiere cioè ci sono mi immagino dei festival principali che adesso sono riaperti post pandemia c'è la pubblicazione vabbè di diciamo dischi adesso la parola dischi ecco vedendo i vinili dietro poi mi viene un po' difficile però c'è una pubblicazione musicale come funziona questo circuito per chi dice ok io voglio fare DJ bellissimo ma poi come campo e come dov'è che mi devo muovere? allora diciamo che ovviamente ci sono tutti questi grandi festival se sei già una persona diciamo che è già uscita dall'acqua o comunque sei già conosciuto e fai parte un po' del circuito aumentano la tua popolarità il problema è oggi come riuscire a uscire perché in realtà da un lato la tecnologia ci ha aiutato tantissimo perché la tecnologia ti aiuta molto diciamo nel crearti la tua strada è nel creare nel cercare di diventare sempre più popolare però in realtà aiuta aiuta una fascia molto più grande di ragazzi cioè se quando per dire quando abbiamo iniziato noi faccio faccio due paralleli diciamo quando abbiamo iniziato noi ho iniziato a fare il DJ tipo nell'86 87 un DJ che poteva andare in uno studio di registrazione e collaborare con i musicisti perché comunque eri quello che ascoltava le cose eri quello soprattutto nella musica club che portava diciamo i dischi che funzionavano nel club e cercava di far capire ai musicisti quello che poteva funzionare quello no oggi con la tecnologia diciamo che i ragazzi sono molto bravi sono ragazzi molto bravi molto svegli possono far tutto il problema è che costando anche meno la tecnologia sono tanti di più i ragazzi che possono oggi io non riesco ad immaginarmi quanti ragazzi ci siano nella loro cameretta per dirti a cercare di fare il brano di discoteca quindi il sistema è diventato un po' complesso perché se una volta tu magari portavi il tuo provino alla casa discografica e nella casa discografica c'era qualcuno che ti ascoltava e ti dicevano e ti dava magari dei riferimenti e ti dicevano magari questo pezzo lo sentirei un po' in questo genere magari potresti ascoltare questo che è un riferimento oggi è tutto molto più veloce quindi anche le case discografiche che spero che nessuno me ne voglia male però sono molto più veloci anche loro nell'ascolto quindi gli arriva il pezzo ascoltano se mi piace o non mi piace tutto quello che c'è stato prima e quanto tu sei stato nella tua cameretta e quanto sei riuscito ad imparare magari andando anche ad ascoltare gli altri ad ascoltare altre cose quello devi un po' sbrigartela tu una tenderizzazione dell'ascolto dove swipe sinistra destra in base mi piace non mi piace veloce dimmi scusa però diciamo i canali principali se se un tuo amico ti dice vuoi fare DJ cosa gli suggerisci di fare beh la prima cosa di sicuro è avere comunque alcune etichette discografiche di riferimento cioè nel senso la prima cosa che si fa a meno che io farei se oggi avessi un figlio mi dice se voglio fare il disoche o il figlio di un amico mi capita spesso che magari gli amici mi chiamano allora io mi prenderei dei riferimenti che possono essere non troppi 3-4 riferimenti diciamo 2-3 artisti che ti piacciono da lì ascolti quello che fanno e ovviamente viene automatico vedere quale label fa uscire i loro dischi e da lì cercherei un primo contatto non bisogna avere contatti con tante case discografiche spesso da me vengono i ragazzi magari mi portano i dischi sperando che io possa fare qualcosa in realtà la verità è che non puoi fare tanto se non dagli una pacca sulla spalla e digli guarda questo mi piace questo è forte vai avanti così questo è il motivo per cui io cerco anche di mantenere i contatti con i localini magari più piccoli perché lì sono i posti dove magari i ragazzi ti portano i dischi dove puoi scambiare due chiacchiere allora io prenderei come ti dicevo un riferimento che possono essere due o tre riferimenti da lì guardi quali sono le loro case discografiche e provi e provi a contattarli chiaro che ovviamente ormai tutti ricevono tanto materiale quindi è sempre più difficile quello che puoi fare alle volte che noi facciamo è anche provare a fare quello che magari è un bootleg ad esempio David Guetta fa uscire il disco nuovo magari provi a fare un tuo remix o un tuo mashup un bootleg lo metti insieme a qualcos'altro e quindi lo porti in un genere un po' diverso provi a suonarlo o provi addirittura a mandarlo a lui o cercare qualcuno che è vicino a lui o qualche DJ magari di nome che lo possa mettere e da lì cerchi di costruirti la tua storia diciamo purtroppo ci sono sempre meno locali però ad esempio un giro a Ibiza e magari sentire i DJ e a provare magari anche a cercare un contatto email e dirgli guarda perché sai noi una volta ti racconto una cosa che fa ridere di Marco Benassi prima di Benassi io a Miami ho messo un disco promo un vinile promo premetto non è mai successo niente però ero andato a sentire Pit Tong Pit Tong stava suonando in un club di Miami durante il Winter Music Conference che era la settimana più importante dell'anno perché era quella dove tutte le case scolafiche si incontravano e si scambiavano c'è ancora questa settimana che è a fine marzo e io da dietro sai c'erano ancora le valigie di dischi misi un disco un promo nella valigie di Pit Tong sperando ho detto allora Pit Tong domani guardi sui dischi lo trovo e dice che cos'è questo avevo scritto non è mai successo niente se non che l'anno dopo l'ho incontrato invece per strada e avevo i CD con le produzioni e gli ho dato gli ho dato il disco gli ho dato il disco a lui però questo è quello che si cerca di fare io vedo spesso guardo anche i miei messaggi cerco di rispondere un po' ai ragazzi è chiaro che e scusami Benny e saltare completamente sta parte dire no io inizio a pubblicare sui social inizio vado salto completamente il problema è che allora un cantante cioè ad esempio se tu sei un cantante magari con un canale YouTube questa roba può funzionare è funzionale credo che sia uscito così anche Justin Bieber non vorrei adesso mi sembra che fosse uscito così con delle cover questo può funzionare perché tu ad esempio fai delle cover le metti e prima o poi magari qualcuno perché ci sono anche secondo me persone che cercano queste cover che cercano queste voci che poi vengono a contattarti per un DJ è un po' più difficile pubblicare da solo per quello io quando ad esempio noi abbiamo provato anni fa avere un'etichetta però in realtà puoi avere un'etichetta è un altro lavoro oggi invece abbiamo diciamo questa struttura non grossa che è una specie di start-up che si chiama Basic dove io cerco di consigliarti cioè tu sei un ragazzo giovane mi mandi un disco guarda a che etichetta lo vuoi dare io ho i contatti ce li ho proviamo cioè vuoi darlo all'etichetta di Tiesto scriviamo a Tiesto se gli piace magari te lo pubblica ma l'etichetta scusa Benny se ti interrompo ma l'etichetta che valore aggiunto mette? beh allora l'etichetta si è un po' strutturata e oggi alcune sono abbastanza strutturate riescono innanzitutto a farlo entrare nel loro circuito promo e quindi lo mandano a tutti i DJ di nome e quindi magari il tuo disco che esce sull'etichetta per dirti ti faccio un esempio Martin Garry che oggi è uno dei DJ giovani anzi è probabilmente il più grosso tra i giovani il primo periodo usciva sull'etichetta di Tiesto quindi cosa è successo? Il suo disco è uscito sull'etichetta di Tiesto poi è stato mandato a tutti gli altri DJ e pian pianino sai comincia a suonarlo un DJ magari nella serata particolare Ibiza comincia a suonare un DJ a un festival pian pianino i video girano e questo è un po' il valore raggiunto se invece tu ti fai una tua etichetta perdi più tempo in questo momento se sei un ragazzo giovane dico perdi più tempo a capire come fare a far uscire il disco perché alla fine chiaro il disco esce perché alla fine ce lo metti su Spotify però se poi non riesci non riesci a diciamo a darlo l'etichetta ha un po' di solito l'etichetta un po' strutturata ha un buon know-how con DJ per poi passare alle radio perché poi adesso ad esempio sono molto importanti anche le radio dance comunque anche le radio dance ti mettono nelle loro playlist ti passano il disco quindi l'etichetta strutturata serve un po' a questo dopodiché se il disco fa quel salto diciamo se cominciano a suonarlo tutti e quindi comincia un po' a fare il crossover fra la musica da discoteca diciamo e la musica un po' più radiofonica poi ci sono i plugger che vanno alle radio e questo è quello che per dire era successo a noi ma come è successo anche a tanti altri DJ che poi sono diventati più pop vanno alle radio e dicono guarda che questo pezzo lo stanno veramente suonando tutti in discoteca sta funzionando e le radio magari come era sì per dirti i due riferimenti miei sono sempre stati Alberto perché in Italia c'era Albertino e c'era Radio DJ e si facevano quasi dischi sperando che lui te li suonasse e Pit Tong perché era diciamo quello che per noi era in Italia Albertino Pit lo era per tutto il mondo perché allora le playlist di Pit le guardavano un po' le radio di tutto il mondo quindi quello è quello che si cerca sempre di fare farlo suonare ai DJ più importanti per poi arrivare agli altri cercare di arrivare alle radio prima dance e poi se passi anche il filtro delle radio hai la fortuna di arrivare alle radio mainstream e dal punto di vista della sopravvivenza come fa a campare un DJ perché Spotify a meno di far triliardi di stream ti dà due ciocori e cento lire e quindi immagino è quello di cui parliamo sempre con i ragazzi è la cosa questa è la cosa più difficile perché comunque allora o hai la fortuna di poter essere all'interno di una struttura dove magari si fanno anche alcune produzioni per altri o si curano e quindi magari remix noi ad esempio adesso abbiamo negli ultimi due anni diciamo con la fortuna appunto di avere il mio nome all'interno della struttura riusciamo a fare parecchi remix perché comunque sai la casa discografica esce con il disco pop cosa cerca di fare di farlo suonare a tutti i DJ per fare in modo che la melodia della canzone possa arrivare a tutti quindi oggi per dire la casa discografica smette di dire dice ok abbiamo bisogno di una versione per i club di Ibiza alzano e chiamano i Meduza per dire in questo momento pure dicono abbiamo bisogno di una versione per il mercato americano alzano magari e chiamano anche noi o chiamano me oppure chiamano anche altri nomi in questo modo la casa discografica ha un po' di budget e quindi riesci a diciamo un po' a guadagnare da lì perché se no in realtà non è semplice non è facile perché non ci sono più i club cioè ti faccio un esempio io andavo in discoteca il venerdì il sabato e la domenica pomeriggio e con quei soldi mi compravo i vinili con i quali poi facevo altre serate e pian pianino sono riuscito a comprarmi il primo campionatore poi sono riuscito mio cugino a studiare al conservatorio abitava il piano di sopra a un certo punto ha finito di studiare ma ha detto ma mi piacerebbe capire un po' come funziona la musica e la discoteca insieme abbiamo comprato un mixer abbiamo fatto lo studio oggi è un po' più difficile alla fine devi forse un po' fare qualche sacrificio cercare di fare anche un altro lavoro magari fuori dall'orario per cercare di comunque poter continuare a produrre musica ecco l'unico vantaggio che c'è oggi è che magari i dischi non devi più comprarli la musica te la trovi in rete con un computer comunque un po' di programmi giusti riesci a a fare le cose è chiaro che da lì a guadagnare non ci sono più il club che anche se ti davano 200.000 lire però qualcosa certo io andavo da mio padre e dicevo ehi questo mese sono tranquillo non ho bisogno di niente cioè perché riuscivi a oggi è un po' più difficile per questo ti dico che secondo me i team mettersi in team aiutano sì noi ad esempio siamo in adesso noi siamo in 5 6 e bene o male io rinvesto parte dei soldi che prendo le serate ma anche i soldi che prendiamo dai remix però ripeto io e qua è la consapevolezza di essere ho la fortuna comunque di avere il nome che mi aiuta a portare a casa i demix un po' più difficile quando si parte stavo pensando che quello che è incredibile che prima tu avevi un vantaggio competitivo se avevi 500 vinili cioè ti potevi comprare 500 vinili avevi un database che io magari non avevo perché io magari ne avevo solo 50 quindi tu avevi la possibilità di spaziare molto di più cioè quello era un asset su cui potevi fare le c'era un altro problema però che era questo dove metterli no no a parte dove metterli va bene mia mamma impazziva poi adesso io ne ho qua ne ho a casa e no il problema era un altro era che dovevi riuscire ad avere quei 50 di cui parlavi tu ma dovevano essere quelli giusti in realtà arrivavano pochi dischi allora fai conto che c'erano tre fondamentalmente c'erano tre barra quattro negozi di vinili da dj giusti in italia uno era a Rimini uno era a Modena probabilmente ce n'era una a Roma che io non conoscevo e forse una a Napoli magari una a Torino e poi Milano dove c'erano i magazzini di distribuzione però era difficile perché ad esempio dall'Inghilterra arrivavano pochi promozionali perché il punto è dovevi avere il disco un po' prima degli altri se volevi fare la differenza perché nel momento in cui poi il vinile usciva per tutti allora si compravano ancora i vinili ce l'avevano tutti e fare la differenza era difficile perché allora potevi avere cioè o eri già un dj famoso cioè nel senso o eri Ralph o Claudio che comunque loro gli avevano i dischi perché erano molto famosi quindi arrivavano al negozio i dischi e glieli davano o cercavi di diventare un buon cliente per il negozio un buon cliente cosa voleva dire dovevi comprare di tutto perché tu dovevi spendere alla fine però l'orecchio ce l'avevi anche tu perché non è che l'orecchio ce l'avevi quindi ti rendevi conto che stavi portando a casa dischi che non ti servivano però li compravi guarda e mi ricorderò me lo ricordo questo me lo ricordo sempre me lo ricorderò sempre cioè che dopo un po' io avevo capito un po' questo ho capito questo diciamo meccanismo e ho detto guarda facciamo una roba vado a lavorare in un negozio di dischi do una mano a un amico che aveva un negoziato i dischi geniale geniale che era partner era partner di era socio di Mariposa di Milano quindi il nome c'era a Milano lui cosa faceva mi mandava a Milano a comprare i dischi nei magazzini io ho arrivato questo ormai tanto lo racconto tanti venini non ci sono più Mariposa scusami era quello sotto al metro? Mariposa era quello no Porta Romana quello nell'angolo di Porta Romana adesso secondo me c'è un ristorante c'era il mitico Angelo che tu andavi da lui era come tutti i discografici un po' un po' così un po' scorbuti ascoltati questo va questa è una bomba ascolti sempre la roba commerciale così non era un po' così allora quando io ho iniziato a lavorare per questo mio amico che era suo era suo socio lui da Reggio Emilia mi mandava nei magazzini a comprare a prendere i vinili no? perché il punto il venerdì e il sabato il negozio di dischi che era bellissimo era come un bar era il punto di ritrovo di tutti i DJ della città ogni c'erano questi negozi che non erano i cinque negozi di cui ti parlavo prima sono importanti però erano negoziati dove i DJ di Reggio Emilia venivano a comprare no? allora io cosa facevo andavo a Milano a prendere i vinili arrivato a Milano però nei magazzini mi rendevo conto che non me li davano perché i famosi dischi fighi andavano a quei cinque negozi poi io avevo visto che c'erano le caselle quindi c'erano non so venti copie del nuovo Jamiro Queire mixato da Morales venti copie per il negozio di Rimini io cosa facevo tre copie non le rubavo le sfilavo dalla casella perché poi era come supermercato poi andavi a casa a pagare ma la casella non sapeva quello che tu stavi pagando quindi io le sfilavo tre copie e le portavo a Reggio Emilia quindi pian pianino avevo qualche disco anch'io e così in quel modo lì facevi un po' la differenza arrivavi il venerdì al club e avevi il disco che gli altri non avevano e se no veramente non sapevi vabbè eri super avanti dimmi rispetto parlavi del fatto di avere orecchio sviluppare un orecchio io come mi dice sempre un mio amico ho l'orecchio cariato proprio non cioè zero cioè tu mi metti su qualunque cose io non capisco non sento il ritmo così carino come un amico esatto no però è vero insomma cioè io proprio non ho nella mia lista di cose che non so fare ecco questa è senz'altro una di quelle in cima e mi chiedo che cosa ascolti tu a che cosa presti attenzione quando ad esempio ti mandano un pezzo o c'è qualcosa che vai in un festival senti un pezzo che cosa ti colpisce te lo chiedo perché ieri sera ho visto un film molto carino appena uscito che si chiama The Hustle con Adam Sandler che fa lo scout di basket e va in giro per il mondo a cercare dei giocatori di basket da portare nell'NBA e tu lo vedi che cerca di osservare i comportamenti cose le infortuni la posizione e fa tutta la sua analisi che cosa guardi tu quali sono gli elementi per te importanti ma guarda io venendo un po' dagli anni 80 soprattutto e poi venendo un po' dalla discoteca cioè alla fine quello che a me colpisce sempre di più sono linee di basso e batteria cioè alla fine io divido sempre i dischi abbiamo sempre riso un po' su questa cosa però io li divido sempre in momento in cui si balla che io chiamo balla balla che quindi è basso batteria e qualche sequencer che ti diciamo che ti dia un po' di emozione pausa quindi momento di atmosfera quindi tu immaginate proprio la discoteca la gente balla impazzisce per un minuto poi si ferma tutto le luci i laser l'atmosfera e lì magari una voce magari un po' sognante e poi riparti e balla balla quindi quello che io da italiano ho sempre ascoltato diciamo è la melodia che ti prenda non so perché ci sono alcune melodie che mi fanno venire i brividi proprio le senti sulla pelle a me fanno venire i brividi altre no ma questo è il mio gusto poi non lo so magari quello che fa venire i brividi a me non li fa venire a te però io ho sempre cercato un po' di ascoltare quello se la melodia mi dà quello che è un buon vibe cioè quindi lo sento un po' sulla pelle cassa cassa è basso funzionano e mi fanno ballare quello è la prima cosa che vedo poi prendo il disco di solito quando c'è qualcosa di interessante che mi mandano me lo provo ho l'occasione anche di provarmelo in discoteca oggi sono anche un po' più fortunato diciamo perché chi viene a una mia serata se sbagli un disco non è proprio che se ne vanno subito dai una volta invece mi provavo proprio in discoteca e guardavo la reazione lo provavo vedevo la reazione della gente tornavo in studio e dicevo quindi un po' quello che ascolto io è quello un po' il vibe della melodia però mi sono ritrovato ovviamente il mondo è cambiato e adesso quello che prima per me diciamo il mio mondo era solo in Italia fino a diciamo 15 anni fa oggi è diverso quindi gli americani ad esempio ascoltano molto il testo gli americani quindi io mi confronto spesso con i ragazzi più giovani di me con il mio manager che magari perché non è solo una questione di come parli inglese è anche una questione di come comunichi in inglese ad esempio noi abbiamo un ragazzo di San Francisco che vive qua per caso è figlio di una di una di un'insegnante una nostra amica è un cantante molto bravo che scrive canzoni e l'anno scorso mi ha chiesto posso venire in studio da voi vorrei stare io qua c'è spazio per Bacola Grande vieni e scrivi poi qualche volta è venuto in tour con me perché comunque mi ha accompagnato mi ha aiutato un po' anche come tour manager mi sono accorto che è anche proprio importante il modo in cui ti parlano il modo in cui ricevi il messaggio quindi qua diventa qua si apre anche un diciamo un discorso diverso per cui alla fine noi poi siamo stati fortunati dopo di avere di essere riusciti a collaborare comunque con una casa di scuola africa americana quindi ascoltano loro i brani tante volte magari il mio manager mi dicevo guarda che ascolta il testo rendi conto di cosa dice magari il messaggio per il club per il festival che è molto importante anche questo io per i primi anni io ascoltavo l'effetto che mi faceva la melodia capito e magari è interessante questo aspetto delle culture native inglesi diciamo native english speaker rispetto a a chi non lo è perché io ad esempio quando sono arrivato qua in Inghilterra ormai ci sono da dieci anni mia moglie inglese se sentivo una canzone in realtà tuttora no parto una canzone non so un rap alla radio e io sento nella mia testa è una serie di rumori io così no è come il gramelo cioè è una roba che io seguo solo il ritmo ma a meno di prestare attenzione non capisco le parole e spesso il problema è che magari ci sono delle parolacce e mia moglie dice ma spegni questa qua no perché ci sono i bambini dico io non l'ho visto non so non me ne accorgo invece loro chiaramente è come se noi sentiamo una canzone in italiano insomma la nostra comprensione è diversa bravo questo è poi vabbè mettiamo anche in conto che adesso nel rap o nell'hip hop nuovo tante volte come dicono i ragazzi giovani di là conta anche il flow cioè alle volte mettono magari la parolaccia o la roba perché fa come dicono loro fa flow e poi però in realtà come dici tu un bambino italiano io ad esempio un amico che vive a new york la settimana scorsa si chiudeva le orecchie perché sentiva come dici tu un pezzo e dice no le parolacce non si possono e si chiudeva le orecchie il bimbo di sei anni noi magari a me non arrivava la parolaccia capito anni fa avevamo fatto un evento e c'era sai quelle classiche sigle che vengono fatte all'inizio degli eventi con il video e la musica del sottofondo insomma per fare il walk-in bellissimo video bellissimo video musica coinvolgente tutti super contenti tutti italiani e poi ad un certo punto la mia dolce metà inglese lo guarda e dice ma forse c'è un errore nella canzone immagino avete notato e tutti no cioè che errore c'è e tipo la canzone le parole erano tutte sul siamo delle merde abbiamo perso non ci rialzeremo mai capito però sembrava l'opposto sembrava molto inspirational e quindi questo è anche un altro problema che tu non lo vedi non capisci infatti questo è un po' il problema secondo me qua si apre se vuoi anche un tema su quanto sia difficile se sei italiano essere credibile musicalmente parlando nei paesi appunto anglofoni diciamo la musica da club ha un linguaggio che bene o male parliamo tutti uguale quindi c'è nel senso è per quello che dall'Italia magari riesce a diventare un DJ diciamo famoso in tutto il mondo comunque riconosciuto in tutto il mondo fai più fatica maneschin a parte perché loro ce l'hanno fatta si fa più fatica se sei una una band rock a uscire dall'Italia perché comunque se scrivi con una se parli anche bene inglese ma scrivi canzoni con una cioè scrivendo partendo dall'italiano perché comunque parti da lì è molto più difficile i maneschin ce l'hanno fatta secondo me per mille motivi perché fondamentalmente suonano da paura e sono bravissimi perché il brano era una cover molto importante soprattutto per gli americani una cover che comunque era quindi hanno fatto un po' l'ingresso secondo me detto da questo mio amico sono andato al loro concerto al primo concerto a New York ho avuto la fortuna di essere proprio nel club ed ero con questo mio amico grande fan dei Beatles e mi ha detto guarda stanno facendo il percorso che hanno fatto i Beatles anche i Beatles sono arrivati in America comunque con una cover alla fine sono entrati così sono entrati in prepotenza e loro infatti sono entrati poi suonando da paura però quello che volevo dire è che è più difficile se sei italiano riuscire ad essere credibile all'estero ci sono grandi artisti di musica italiana che sono molto credibili nei paesi latini perché comunque lo spagnolo è più vicino anche come modo probabilmente di scrivere più vicino all'italiano fare il cantante internazionale voler cantare in inglese partire dall'Italia è un po' più difficile ecco bisogna bisogna pensarci qual è bene una cosa in cui sei completamente negato del tuo mestiere e che cerchi di delegare agli altri più possibile ah beh io ad esempio musicalmente parlando sono abbastanza negato cioè ho orecchio per le cose che ascolto così però non mi mettete davanti a un pianoforte per fortuna i ragazzi i primi anni avevo mio cugino che comunque veniva dal conservatorio ha fatto tanti anni di conservatorio quindi abbiamo fatto tutto il primo percorso insieme adesso lui si è preso negli ultimi due anni si è preso un periodo perché sua figlia sta facendo il conservatorio sta facendo flauto attraverso e voleva seguire la figlia poi voleva proprio staccare un po' abbiamo ricominciato adesso a sentirci e a collaborare un po' gli ho mandato qualche file la settimana scorsa sono detto dai ok mandami qualcosa però lo faccio con calma quindi i primi anni ero con lui adesso altri ragazzi con cui lavoro sono rimasti in studio con noi su quella parte lì io spesso ascolto approvo però faccio fare a loro invece come trend trend queste belle parole come insomma direzioni che tu vedi da qua per dire i prossimi 12 mesi musicalmente c'è qualche cosa che vedi che si sta per affermare o che prevedi che sarà interessante mi piacciono ultimamente mi piacciono molto diciamo gli show allora secondo me si sta integrando sempre di più l'arte l'arte digitale diciamo in termini di 3D digitale così con la musica non voglio parlare di NFT perché non è il mio mondo però quello che vedo vedo degli show sempre più integrati fra musica e video e quindi diciamo che questa forma questa forma di show sta dando sempre più spazio alla musica diciamo quella che chiamavamo un po' più underground che si faceva un po' più fatica diciamo a suonare nei festival ad esempio mainstream perché comunque era un po' più innanzitutto un po' più lento un po' più slow con i suoni un po' più diciamo che vengono appunto da un mondo un po' più elettronico magari suoni analogici non tanto poco magari poco rumorosi ma un po' più come dicono gli americani organic e quindi vedo vedo un po' sì vedo un po' l'unione e questa cosa appunto tra video secondo me penso ad esempio non so se parliamo italiano penso allo show dei Tale of Us ad esempio che hanno queste immagini bellissime che si fondono due ragazzi italiani che stanno funzionando parecchio e soprattutto in quell'ambiente qua un po' più diciamo underground però tra suoni e video questa cosa mi piace molto e quindi il fatto di poter suonare anche ai grandi festival o suonare comunque anche nei club molta più musica di questo tipo probabilmente sta un po' cambiando la sonorità in generale quella cosa che ti dicevo all'inizio della chiacchierata il laboratorio si sta spostando sempre di più su questi suoni e quindi andrà a contaminare anche quello secondo me che poi sarà ma lo ha già fatto perché poi ci sono già magari rapper che fanno già pezzi su queste basi su questi beat quindi questo secondo me è una strada mi piacciono molto questi suoni un po' mi ci riconosco poi ovviamente non posso fare una serata interamente con questa musica però mi piace ascoltarlo qual è il festival super super top che dici questo è il numero uno ce n'è uno che in assoluto a livello mondiale è il non plus ultra sì il Quacella ma il Quacella dall'inizio cioè oggi oggi comunque il Quacella è super di moda è super alla moda è diventato ovviamente famosissimo con i social tutti i social influencer più conosciuti ci vanno quindi però il Quacella da sempre è sempre stato un festival che ha unito che ha unito i due geni cioè no non i due geni ha unito tanti generi musicali dal rock all'elettronica alla dance io mi ricordo per dire il palco il palco della musica dance è cresciuto sempre di più fino ad arrivare all'ultimo anno secondo me aveva 30.000 persone solo quel palco lì quindi è bello è bello il live innanzitutto sei sono molto belli sono bellissimi anche i festival inglesi tipo il Creamfield in Inghilterra è sempre stato bellissimo soprattutto il Creamfield è sempre stato diciamo musica da club molto elettronica molto club il Quacella però sai il Creamfield è più nordico c'è freddo spesso piove il Quacella ha un vibe completamente diverso perché comunque è in California il tempo è quello e unisce molto più anche secondo me per famiglie o comunque per diciamo nuclei familiari con gusti musicali diversi quindi ci sono linguaggi diversi all'interno dello stesso spazio quindi è bellissimo perché io per dire mi ricordo un anno Tiesto chiudeva il palco centrale o forse era il penultimo e prima o dopo o dopo di lui c'erano i Redocci di Pepper ho visto Madonna tipo Dopo i Chemical Brothers cioè nel senso robe del genere capito mix che da noi in Italia ancora non si potevano fare ecco quindi il Quacella ha questo bel vibe è quel super top ma come esibirsi davanti a migliaia di persone che sono lì e tu fai i gruppi li fai muovere in sostanza perché ovviamente anche un cantante fa muovere persone sulle mani però è un po' diverso qua proprio li balli in base a come decidi tu ecco bravo soprattutto cioè la roba che secondo me è divertente del fare il disc jockey è che tu davvero cambi la pista soprattutto quando hai una pista enorme la cambi come vuoi in base a quello che metti mentre comunque è ovvio che una scaletta di un cantante o di un musicista comprende un sacco di cose cioè non è che puoi cambiarla così a meno che tu non sia chitarra e voce non è che puoi cambiarti la scaletta in un minuto perché comunque hai tutta la band non è così facile sempre poi magari lo si fa però non è easy il bello del disc jockey è quello che tu se ti cala un po' il vibe se hai un po' di esperienza dici vai metto quella roba lì che sono sicuro che che tira sulla pista e quindi vedi proprio la pista che si muove le mani che si alzano si abbassano in base a quello che metti io ti dico è un'atmosfera bellissima a cui ovviamente bisogna essere pronti cioè devi arrivarci un po' strutturato perché sai uscire dalla tua cameretta e ritrovarti su un palco del Quacella con davanti 30.000 persone non è proprio la stessa cosa è meglio diciamo prepararsi per questo come erano molto importanti i club perché ti facevano un po' da palestra poi tu arrivavi lì e dicevi ok adesso il club oggi è un po' più grande e quindi sto attento ci arrivi un po' più strutturato ma se ti salta la corrente adesso vedi le paranoie che ho io dai venti e ti salta la corrente mi ricordo un evento una volta è saltata la corrente ed ecco boom al buio così e quindi tu devi improvvisare no o il microfono c'è il microfono inizia la gente non ti sente tante volte tante volte non c'è saltando la corrente non va più il microfono per cui lì dipende dipende soprattutto da quello che succede davanti a te nel senso che ad esempio guarda la settimana scorsa c'era un festival italiano molto bello si chiama Nameless sul vicino al lago di Como dove c'erano comunque anche tanti di gente internazionali lì è venuta una bomba d'acqua proprio e ha staccato la luce per un po' la gente ha capito perché c'era una bomba d'acqua lì il punto è quando invece tutto funziona di colpo e magari ti si rompe solo la console ti si rompe solo un è quella la cosa che in quel caso che cosa fai? prendi il microfono prendi il microfono e io ai tempi quando perché si rompevano le puntine da noi si rompeva la puntina del giradischi quindi oppure raccoglieva la polvere e il disco andava in fondo e tu magari stavi scegliendo l'altro disco io mi ricordo che proprio prendevo il microfono e dicevo ragazzi a casa vostra la puntina non si rompe mai si è rotta la puntina e cambiavi la puntina però in realtà quella roba lì un pochino sì magari cerchi di scherzare con la gente cerchi di poi oggi è sempre più difficile perché comunque soprattutto ai festival ci sono i grandi impianti per cui tante volte c'è anche diciamo c'è tutta una serie di backup per cui riesci a e rispetto al pubblico invece cioè sei un po' protetto perché io mentre uno è tutto preso via magari ti salta sulla console non lo so ecco avrei sempre allora ai grandi festival sei protetto nei piccoli club in realtà no sei vicino a me piace mi diverto tantissimo ai festival però mi piace ancora andare nel club mi piace un po' come dico io non dico sporcarmi le mani però stare un po' con loro perché alla fine sento il bisogno di di aiutare anche chi ancora ci crede cioè in Italia soprattutto in Italia non è facile investire nei club no? non è mai stato facile mentre in Inghilterra dove hai la fortuna tu di vivere la cultura club era è sempre stata una cultura cioè nel senso qua in Italia è sempre stato un po' più difficile quindi a me piace fare i club anche più piccoli perché comunque mi sembra un po' di aiutare sia i ragazzi che ci vanno che magari non hanno la possibilità di andare a un grande festival di andare a Ibiza per dirti e sia aiuto chi cerca di investire e di aprire nuove attività nuovi club che insomma non è non è facile però non sei sempre protetto e ti viene in mente qualche aneddoto di tutti questi anni in cui ti è successo qualcosa di particolare che ti ha sorpreso ti ha spiazzato non so magari no ad esempio succede alle volte ti lanciano le cose ti lanciano non so dal pallone gonfiabile al bracciale soprattutto gli americani fanno questi bracciali portafortuna con tutte le perline e te li lanciano e alle volte proprio cadono dritti sul play del cd quindi lì ti ferma la musica tutti i giri e dici poi ogni tanto succede no ma succede di tutto cioè nei club soprattutto quando la console è aperta vengono entrano a fare le foto però dai fa parte di quell'atmosfera sì è divertente l'importante insomma riuscire a a mantenere come ti dicevo prima a mantenere sempre un po' la tranquillità e insomma la consapevolezza che fondamentalmente stai facendo il dj quindi che hai di fronte vuole divertirsi poi in mezzo a chi si vuole divertire c'è sempre quello che esagera e vabbè chi è si diverte esagerare what's next dopo siamo entrambi io entro nei 50 quest'anno no quindi siamo nella categoria diversamente giovani e che cosa che cosa vuoi combinare nei prossimi 50 nel senso hai hai già un'idea oltre andare in giro in van e guarda ti dico la verità allora adesso veramente sarei felice se la struttura diciamo che abbiamo messo insieme riuscisse a vivere di luce propria cioè nel senso se io riuscisse a dire ok mi fermo tra dieci anni magari cinque sei anni mi fermo mi fermo e la struttura comunque riesce a fare produzioni hai contatti con le case discografiche riusciamo a far lavorare ragazzi nuovi che arrivano e tutti i miei collaboratori riescono diciamo oltre a a fare pezzi per me insieme a me anche a fare cose loro io sarei già contento perché comunque la struttura c'è e qui a me piacerebbe comunque che continuassero che continuassero loro e per quanto mi riguarda ti dico io le mie passioni sono quelle lì e non penso di cioè non ho pensato a un piano B perché alle volte se non si fa attenzione il piano B rischia di mangiarsi tutto quello che hai fatto con il piano A quindi io cerco di avere non dico di avere una vita modesta perché ho una vita sto bene insomma sono tranquillo però cerco un po' di potermi divertire ecco a me ad esempio l'unica cosa che un po' mancava negli anni perché comunque io sai il weekend lavoravo sempre alla fine lavoravo in discoteca ma comunque dovevi lavorare il weekend è vero che tutti i ragazzi volevano essere lì però anche è vero che poi ho sempre lavorato anche a Capodanno ho sempre lavorato nei periodi in cui magari i miei amici facevano le settimane bianche cercherò di dedicarmi un po' anche a quello alla montagna magari a queste cose e potendo fare magari collaborazioni o aiutando i ragazzi più giovani di me e poi alla fine le nuove generazioni però come ti dicevo alla fine alle volte basta davvero una pacca sulla spalla perché sanno già cioè bisogna solo diciamo tenergli alto il vibe perché in realtà incoraggiati è chiaro che non è non è facile ma come secondo me in tutte le attività non è oggi essere giovani e uscire da un'università non è facile non è facile non è facile e sai che forte Benny che hai detto questa cosa del piano B perché proprio ieri Meli che è appunto tenore la scala insomma fenomeno di canto lirico gli dicevo ma tu che piano avevi avevi il piano B dicevo no no io piano B zero perché quelli che avevano il piano B poi oggi sono rimasti a seguire il piano B perché non erano abbastanza dentro al loro piano A e quindi mi piace questo approccio è vero guarda se non stai attento il piano B rischia di cioè poi se sei anche sfortunato se sbaccia magari rovina anche quello che hai fatto prima e poi devi tornare magari un po' se vuoi anche magari in modo ridicolo a fare quello in realtà che era il tuo piano A perché alla fine col piano B è rovinato però ma questo è il motivo poi perché alla fine io penso che cioè l'Italia è ancora un posto dove secondo me alla fine cioè puoi puoi pensare anche di avere una specie di pensione cioè dire ok adesso un pochino 55 anni 60 anni rallento un po' continuo a divertirmi perché è la mia passione però posso fare anche altro magari in paesi come dire questo è uno dei motivi per cui ad esempio non sono andato a abitare via sono rimasto in Italia cioè è il tuo un discorso a parte perché l'Inghilterra a me piace molto l'Inghilterra è è una roba diversa l'Inghilterra è qua sai bene si mangia bene il tempo è meraviglioso insomma quindi no però l'Inghilterra io a parte io ti dico sono cresciuto posso dire sei cresciuto perché gli ultimi 20 anni li ho passati con lui il mio manager vive da sempre a Parma dagli ultimi 25 anni 30 anni ha vissuto a Parma e quindi è però inglese e quindi riusciamo sempre a fare un po' anche il confronto fra quello che è magari vivere in Italia e però lavorare in Inghilterra o comunque avere un po' una mentalità inglese è un buon collubio culturale lavorativo Benny ti ringrazio tantissimo sei strepitoso e ci vediamo a Brighton qua con Fabo e Slim dovresti fare una seratina prima o poi la prima volta che vengo in Inghilterra di sicuro ci sentiamo mi fa super piacere adesso essere in contatto così grande Benny un abbraccio ci vediamo alla prossima ciao 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 molti grazie